A vedere gli elefanti cosa fanno? A chi elefanti è la borgona? Gli esce frittino il sangue e la pelle è aperta Le portano mali, questo, l'altro In America, anzi no, e dico bene In Africa, dove io sono stato qualche volta A Mombas In Mombas Ci sono i cacciatori che hanno un'ideastica Che spavano un elefante o un altro E pagano E allora, se è un animalista, vieni con me Vieni con me, vieni con me Questo è il tema Non stare qua e cacciare Non ho mangiato No, a me mi arrope Ma neanche mi arrope Sì Dunque, frugate il fritto e lo facciamo bene Va bene Dicustate, come dire Ma tanto vai anche su YouTube Allora, se guardi, però Vieni con il mio stradello Oppure il giro di altri cittadini Abbiamo più del mondo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie. Grazie.